Grazie a tutti. E si mette a rubare i soldi. 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 Da domani potrete iniziare a mettere le microspie da Trayman. Stringimi, basta, ti prego. Perché lo fai? Perché sai che possono distruggerti. Non mi conosce, ma io conosco lei. Vorresti pubblicarlo? In Germania Ovest con il tuo aiuto. Non c'è bisogno il Cagliaro di Caio. Questo paese fa schifo. Viva l'Italia, viva Berlusconi. Mancanza di morale, di rispetto della dignità umana. E per volgarità, volgarità dappertutto. Hai visto il fregno? Avvocato, ho passificato i soldi del mio 740. Che vi fanno? Contratto a tempo indeterminato? Onorevoli colleghi, paglieremo i fondi a... Dobbiamo innestare un'idea. Penetreremo nei sogni del soggetto. E una volta raggiunto il suo subconscio, lo convinceremo ad agire nell'interesse del paese. Quindi, voi vorreste convincere Berlusconi a dimettersi? Sì. Non sapete cos'è la libertà! Non avete dignità! Siete i poveri comunisti! Un uomo è rotto. Con lui la fine ha avuto inizio. Spetta la legge! E quest'ultima operazione è l'unico modo per toglierselo dalle palle. Gribbio! Ma cosa fate? Rifiuti e crisi economica sono reali. E sono guardando il TG1 che ci sembra di vivere in un sogno. Intanto tu le votate le loro vota qua! Papà, lascia che sia io a scendere in campo. Pensa solo al bunga bunga! Non mi fermerà. Mi deve trovare dei coglioni! Mi deve trovare dei coglioni! Notizia nell'ultima ora. Il premier Silvio Berlusconi si è dimesso. Dimesso dalla clinica San Raffaele dopo un delicato intervento di allungamento della vita. L'ultima il trainer! Bellissimo! Bellissimo! Ma scena l'ultima ora. Non mi vuoi esclare. Ma scena l'ultima ora. Ma scena l'ultima ora. La clinica è un buon anno che sia io a scendere. Grazie a tutti